Siamo qui con Mario Spiniello, già campione italiano in carica, nonché vice campione europeo su questa pista 5 anni fa. Mario che è passato a un nuovo modello, adesso lui ce l'ho in lustra. Allora, ciao a tutti. Sì, come ben sapete, quest'anno abbiamo iniziato una nuova avventura con BMT, grazie a Pasquale Iulucci, il mio sponsor. Diciamo che vengo da 7 anni con X-Ray, che comunque ringrazio per tutto quello che hanno fatto per me e per tutti i lavori che abbiamo fatto insieme. Quest'anno abbiamo provato a tuffarci in questa nuova avventura, appunto come dicevo, siamo ancora un po' in fase di sviluppo, stiamo lavorando sulla macchina, ma i primi risultati stanno iniziando ad arrivare. Allora, vi faccio vedere qualcosina. La macchina ovviamente si avvicina comunque alle forme di tutte le classiche 1.10, abbiamo soluzioni comunque, direi, possiamo dire standard. Ecco, abbiamo adottato la barra antirollio posteriore, ancorata in alto, come già presente in altre versioni. E davanti abbiamo la possibilità di montare sia una barra a filo, che una barra di stile classico a coltello. Per il resto abbiamo il salvaservo già regolabile, quindi già abbiamo un salvaservo in alluminio, a differenza di molti altri modelli che lo offrono di plastica, e abbiamo già la possibilità di avere la regolazione spostando il salvaservo in avanti o indietro. Per il resto anche una bella disposizione dell'elettronica, quindi abbiamo entrambi i servi, sia sterzo che gas freno, li abbiamo sdraiati, quindi per abbassare quanto più il percento dell'auto. Una scatolina porta ricevente, il tutto è molto pulito perché alla fine vediamo soltanto il filo delle batterie fuori uscire e il traspondere. Quindi per il resto, ripeto, la macchina è concettualmente semplice, però valida. Su questa pista che tu conosci molto bene, cosa consiglieresti a un ragazzo che viene a correre? Su quali parametri è importante settare la macchina? Ma allora, su questa pista, diciamo, quello che conta di più, oltre ad avere un motore adeguato, perché la pista comunque richiede un motore molto potente. Per quanto concerne la macchina, è importante far sì che la macchina scorra molto nelle curve, quindi non si vada a piantare, perché in questo circuito è molto importante per andare forte riuscire a far scorrere sempre la macchina nelle curve, quindi senza rallentare troppo. Il segreto, posso dire, per andare comunque molto forte su questa pista, paradossalmente, è andare piano. Quindi lasciare la macchina scorrere in tutte le curve, senza attaccarsi tanto ai freni, magari rallentare un po' prima e fare tutte le curve in modo, diciamo, tranquillo. Dopo la prima manche di qualifica, stai andando abbastanza bene, tant'è vero che ho visto, hai preservato un po' il modello, non hai voluto spingere troppo. Ma ti vorrei chiedere, che cosa stai cercando di più dal tuo modello e cosa cercherai di migliorare domani? Allora, per domani, infatti, ci stiamo già lavorando, stiamo cercando di avere un filo più di sterzo, soprattutto in ingresso di curva, perché in questa batteria ero costretto comunque a rallentare un filo di più rispetto agli altri piloti che mi hanno preceduto, perché perdevo feeling con l'avantreno. Quindi, ma credo che ci siano regolazioni semplici e poche cose da fare, ma siamo già sulla strada giusta. Personalmente, posso dire che non mi aspettavo neanche di essere già comunque così competitivo, perché arrivare qui alla prima gara stagionale ufficiale con un nuovo modello non è la cosa facile. Infatti, abbiamo lavorato molto quest'inverno per trovare il giusto compromesso, il giusto setup iniziale. Devo dire che sono davvero soddisfatto. Domani cercheremo comunque di fare di più, perché non è mai abbastanza. Va bene, noi ti facciamo in bocca al lupo e ti inviteremo domani o dopodomani ancora qua per salutare anche i tuoi fan. Grazie, ciao a domani.